Salve a tutti ragazzi, sono IphoneAmadore e benvenuti in questo nuovo video, ok sono Spariti tutti, dove quest'oggi andrò a giocare un'altra volta, scusate il cavolo, in un server, cioè nello stesso server di iPixel, però questa volta invece di giocare in Painball andremo a giocare ragazzi in Quakecraft, cioè sarebbe una modalità molto faica in cui sembra che abbiamo della magia all'interno della nostra zappetta E grazie alla nostra zappetta con il tasto destro potremo andare ad uccidere gli altri giocatori, ok non entro lì dentro, ok Potremo andare ad uccidere gli altri giocatori grazie a dei razzetti che partiranno dalla nostra zappetta Ora andiamo a giocare sempre se mi ci fanno andare, ok, e andiamo a vedere un attimo una cosa che... una sala d'attesa che sta per iniziare Ecco qua, questa qua, perfect, perfect Queste qua sono le ambientazioni di iPixel create da lui, infatti sono strafighe E tra 7 secondi si inizia il game, scusate per il lag, lo so, e vabbè Comunque come vedete sono tornato alla grafica iniziale di coso di... Di Minecraft per dei problemi che spiegherò in un altro video E sperando che non lagga più, aspettate, cerco di non far laggare ancora di meno Ok, dovrebbe largare di meno ora No, niente, ne è successo, ecco Sono appena morto, perché... guardate che cosa succede se io premo il tasto destro PEM! Parte un razzetto, eh, lo so, è strafaico Il sound non so perché non si sente, ma vabbè, si cavoli Tanto dovete sentire la voce mia, no? E quindi partiranno questi razzetti che se andranno a colpire vicino o addosso un nemico Lo uccideranno, in questo caso sono stato ucciso io per primo Perché sono... stavo parlando Ma ora andiamo a vedere un po' di personcine che sono qui vicino a me Personcine... ecchene una, ecchene una, bella di casa Vai, vai, PEM! Ok, l'abbiamo ucciso Wow, scusate se non sentite l'audio È una brutta cosa se non senti l'audio Oh, un altro Dai che l'abbiamo ammazzato, ok È un po' ritardata la cosa del... per vedere se l'ho ucciso o no Però, almeno, l'ho ucciso e quindi sto a posto con la mia coscienza Abbiamo la pozione di velocità infinita E poi, ecco E poi mi ammazzano Intanto razzetti che partono da destra o da sinistra e non capisco più niente Ok, uno è morto Poi, ecco E che palle però, una volta, famo una volta per uno? Vorrei ammazzarne un po' più di uno, no? Eccone uno Vediamo il nome, vediamo il nome Vediamo il nome Vediamo il nome Eccone Boom Aie, 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 non me devi vedere, non me devi vedere, non me devi vedere Mamma mia I am a ninja Perché non mi sto? Non so se sentite il rumore dell'aspirapolvere Ma tanto mia madre, anche se non vuole, partecipa ai miei video Anche... ecco Ho parlato, adesso la spinta Aspetta, aspettate Eccone uno Eccone... Ehi, 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 ehi E porca miseria Mi ha ammazzato un'altra volta Quello lì è forte, è quello forte In... a destra potete vedere la cosa La classifica Ma è meglio non vederla Perché sono l'ultimo in classifica E dai, l'ho ucciso, no? Che palle Che palle, ragazzi Che palle Ok, ok Lui non sapeva che io stavo dietro di lui Anzi Solo io sapevo che stavo dietro di lui No, non so quello che sto a dire, vabbè Ehm, vabbè Quando incontrerò... Ecco, l'altro, l'altro, l'altro Mori Tiè Quanto godo Ahaha, sei morta Sei morta Andiamo giù Anche se tra due secondi Sono sicuro che muoio Muoio Eccolo 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 Va Fan bene Vabbè Basta Va Allora Andiamo più avanti Andiamo più avanti Andiamo più avanti Andiamo più avanti Finchè non arriva nessuno Perché non c'è più nessuno Ah mannaggia Andiamo più avanti Trovo più nessuno Comunque il server è sempre quello lì Che avevo messo anche nella paintball Cioè nello scorso video Che è il paintball potete trovarlo in descrizione Il video e trovate anche il server Se volete andate a vedere anche la puntata di paintball Sempre se volete Allora andiamo verso Non trovo nessuno per mezz'ora Ecco gli stizzolzi Tommasato Ma non capisco perché non si sente l'audio Dovrò fare una modifica Al minecraft Sei morto? Si sei morto ok Io ho una paura perché purtroppo si vede Rallentata La morte dei nemici E quindi non capisco se sono morti o no Boom Sei morto? Si Lol 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 Ok non è morto Non è morto Attenzione Attenzione Stanno lì Stanno lì Non lo ammazziamo No Non l'ho ammazzato Ok l'ho ammazzato No che palle Attenzione Attenzione Non l'hiamo ammazzato neanche quello Vabbè Ora proviamo a ammazzare qualcuno Che vuoi fare da laggiù? Che vuoi fare da laggiù? Chi c'è sta qua sotto? Stai qua sotto eh? Merdina schifosa No 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 Lo aspettiamo qua Guardate eh Ah no è pieno di gente ma è inutile aspettarlo qua Io pure ho ammazzato Ti è Lol 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 Scusate se il video non è in HD ma in questi giorni sto avendo problemi di connessione Troppa connessione Potete vedere che infatti ne ho veramente tantissime Eh dai ma come hai visto? Ma vaffan bene va Mannaggia ragazzuoli Eh chi c'è lì? Lo avete visto? Lo avete visto? Mori? E mori? Oh a Gesù Cristo Oh e dai no? Eh 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 Ma è morto? Boh vabbè non lo so se è morto Oh 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 Eccole guardate conto fino a tre Ne ammazzo uno eh Uno due e tre No niente io conto per la mia morte Ormai non posso contare per le uccisioni Eh grazie mille No Molto gentile Respawn fatti a cavolo Respawn fatti a cavolo Ok è morto? Sì olè 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 Tanto mamoro Tra tre due uno Tre due uno E iPhone amatore Is Is die Dai che palle Maledetti Allora Pozioni di velocità Non so Speed da due Ok Pensavo che stavo a tre Perché Corrivo abbastanza Invece non c'è Non c'è ancora Niente Andiamo avanti Andiamo avanti Ok è finito il turno Io ho fatto dieci uccisioni Vabbè non sono morto però Cioè non so ultimo Però ce sto vicinissimo Questo video qua è solo per farvi Che c'è sta qua Solo per farvi vedere Praticamente ragazzi Che Tutti Tutte le modalità Del server Di iPixel Questa è l'ultima che vi ho fatto vedere Era la Painball Questa qui è la Quakecraft Che potete andare a cercare con la vostra bussola Cliccando col destro Questa qui è Painball Qui giocare alla Quakecraft Cioè quella che ho appena giocato Qui ci sarà Play Blow Spliff Cioè una modalità che andremo a fare in questi giorni E poi Play a The Walls Che è la modalità con i muri che cadono giù E le quattro squadre si affrontano Questa qui è la sala d'attesa Ma va bene ragazzi Io vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto Ma se ho fatto pure la rima Quanto sono bravo Un saluto a tutti da iPhone Amatore Spero che mettiate mi piace Anche se questi giorni sto facendo veramente pochi video E poco tutto Ok non vado lì Va bene Mi cacciano via Va bene Non ce vado lì Non ce vado Tranquillo Un saluto a tutti da iPhone Amatore Iscrivetevi se non siete ancora iscritti Mettete mi piace se non lo avete ancora fatto E commentate Scrivendo Se volete O la O giocare a Il Ball Spliff Oppure a The Walls Anche se The Walls Eh si no Tu vola un altro po' No? Vola vola Eh se volete giocare a The Walls Oppure a A Cosmo Perché ci sono i fuochi artificiali Perché volano Perché volano gente Io non posso volare Perché Vabbè Vabbè ragazzi Io vi saluto E ciao a tutti Ciao a tutti